Siamo con il neosindaco di Merone Alfredo Fusi della lista Merone Sì nei nostri studi e per questo lo ringraziamo anche perché ha già le idee chiare per quanto riguarda la composizione della giunta, ma non affrettiamo e lasciamo che sia lui a ringraziare naturalmente gli elettori di Merone per questa affermazione. Grazie, grazie dell'opportunità di questa intervista, grazie a chi ci ha dato fiducia, Merone Sì è stata una lista di recente Costituzione, ringraziamo tutti i nostri elettori e comunque ringraziamo tutti i meronesi e faremo di tutto per essere gli amministratori di tutta Merone. Sì, abbiamo già deciso la squadra di governo, l'avevamo già decisa da tempo, prima ancora delle elezioni, ho comunicato quest'oggi agli uffici nominativi degli assessori e dei consiglieri delegati, se volete ve li dico anche perché tanto non è più un segreto, a breve arriveranno i provvedimenti di nomina, vice sindaco e assessore al personale e ai servizi sociali Giovanna Marchetti, assessore all'istruzione e cultura Lucia Meroni, assessore al lavoro pubblico e urbanistica il geometra Guido Villa, assessore a bilancio il dottor Marco Stefanoni, poi abbiamo pensato e anche deciso di fare tre consiglieri delegati, l'avvocato Giulia Re con delega per statuto e regolamenti che dovranno essere attentamente valutati, la dottoressa Dalila Cairoli per ecologia e ambiente e il dottor Andrea Vanossi per associazionismo e sport. Per dire rispetto delle quote rose della parità di genere, quindi si parte già con il piede giusto dal punto di vista di norme e regolamenti? Siamo oltre le norme e regolamenti perché probabilmente era sufficiente anche soltanto un solo assessore donna, uomo, cioè la parità di genere è sempre parità, noi abbiamo un vice sindaco donna e un assessore donna che è la Lucia Meroni, che è assessore esterno, nel senso che non è tra gli otto eletti ma fa parte dei nostri candidati consiglieri. Quando inizierete a lavorare? Allora, io sono già due giorni che sono in comune praticamente, giorni e notti anche per prendere consapevolezza di un po' di cose, formalmente ci sarà un consiglio comunale entro una quindicina di giorni dove ci sarà il giuramento, la presentazione delle linee programmatiche, perché già questa mattina era presente il futuro assessore al bilancio per prendere contatti con gli uffici, domani sarà presente il futuro assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica per interfacciarsi, stiamo già lavorando. Ecco, Alfredo Fusi non è nuovo all'amministrazione per quanto riguarda il comune di Merone, già in passato in età giovanile ha avuto esperienza sia da assessore che da consigliere, penso che questo le possa servire per poter portare avanti questi 5 anni di impegno amministrativo. Guardi, sì, anche perché è stata un'esperienza in anni differenti da questi, dove il rapporto con la popolazione, con le associazioni era molto più pregnante e credo che l'insegnamento di quegli anni, anche dei sindaci che ci sono stati allora, e non dimentico nemmeno il sindaco Brindisi, che comunque era il sindaco di insieme a Merone, ma erano sindaci che vivevano il territorio, vivevano Merone. Da quegli anni di esperienza vorrei trarre quello, quello di cercare di essere con la gente e insieme alla gente, non chiuso negli uffici comunali. Questo è l'impegno che cercherò di mantenere con i meronesi. Da dove pensa di cominciare? Quale è l'argomento, il progetto che merita maggiore attenzione? La prima attenzione è per le scuole, per le famiglie, perché comunque, ora che potremmo essere veramente operativi, e anche con il passaggio di consegne per gli aspetti di bilancio, passeranno ancora una trentina di giorni. Le scuole iniziano a inizio settembre, abbiamo davanti luglio ed agosto, agosto è poco operativo, per cui la grande concentrazione è su quello. L'altra grande concentrazione è il rapporto con gli uffici e con i dipendenti, facendo mente locale su tutto quello che c'è, sulle criticità, sulle problematiche. Sarà un primo anno di amministrazione fino alla fine dell'anno, soltanto di gestione e di riassetto, mettendo al centro le priorità che sono i bambini, i servizi alle persone, le manutenzioni e niente grandi opere. Per grandi opere o grandi interventi avremo tempo, anche perché dovremo trovare le fonti di finanziamento, perché le risorse comunali, a quello che mi hanno spiegato oggi gli uffici, non sono capienti per permetterci grandi opere. Un piano realistico, vuole dire qualcosa anche alla minoranza a questo punto? Quale potrebbe essere la proposta di un eventuale dialogo per cercare anche di smussare quelli che sono stati un po' gli aspetti, chiamiamoli, negative e difficili della campagna elettorale? Sì, purtroppo è stata una campagna elettorale tosta, io mi limito a dire tosta. Come sindaco mi impegnerò e mi impegnerò sempre ad avere un dialogo con la minoranza, perché comunque rappresentano almeno il 45% della popolazione di Merone. Faremo dei gesti tangibili, concreti e veramente reali, perché li dovrò prima rappresentare al gruppo di minoranza, non posso oggi esprimerli, ma vorrei veramente che si sentano coinvolti in alcune scelte e ho già preso una decisione personale che voglio condividere con il mio gruppo in questi giorni proprio per un segnale di apertura fortissimo che verrà fatto prima del prossimo Consiglio Comunale. Che però non svela? No, perché è una questione che comunque va ragionata anche con le persone, bisogna essere seri, però io voglio veramente partire con il piede giusto in questa situazione, perché siamo tutti meronesi, dobbiamo sedere in Consiglio Comunale per 5 anni insieme, abbiamo delle cose importanti da risolvere, il dialogo serve, la contrapposizione anche aspra, forte, la critica la vogliamo, non dobbiamo superare l'aspetto della critica, le critiche le accettiamo, gli insulti o provocazioni non le accetteremo mai. Il suo, il vostro successo elettorale è giunto qualche giorno dopo, un successo che le sta particolarmente a cuore, che è quello della promozione del Comunale in Serie A, e su questo aspetto ha da spendere anche qualche parola? Ma sì, io sono abbonato, sono tifoso juventino, ma appassionato anche del calcio Comunale, sono tesserato anche se vado raramente allo stadio per gli impegni, e sono più le volte che l'abbonamento lo presto a qualche amico. Però è da qualche giorno che ci stiamo impegnando in Merone per costituire il Como Club, che verrà realizzato presso il bar, il caffettino. Abbiamo già cominciato una raccolta di firme, stamattina sono andato a controllare, dovremmo già essere arrivati a un'ottantina di persone che hanno dato questa disponibilità e sono interessati. Credo che possa essere una grande e bella opportunità avere un Como Club in quel di Merone e mi spenderò in prima persona anche per parlare eventualmente con la società Comunale 907 per chiedere come si fa e per mettere a disposizione anche degli eventuali spazi pubblici se dovranno avere la necessità di fare riunioni, assemblee o quant'altro, perché tra l'altro il 29 giugno, se non erro, alla sede della Proloco in via Cavamarna c'è la festa lariana fatta da alcuni tifosi del Como in collaborazione con la Proloco di Merone e ho visto anche col patrocinio del Comune di Merone che arriva dalla precedente amministrazione che è un evento che raccoglierà tutti i tifosi del Calcio Como per cui invito tutti i tifosi del Calcio Como al 29 giugno alla sede della Proloco per questa festa iniziativa. A dimostrazione del fatto che il ruolo di sindaco non è soltanto carter, burocrazia ma è soprattutto vita reale con i cittadini. Sì. Allora ringraziamo Alfredo Fusi, nuovo sindaco di Merone e auguriamo a lui e alla sua squadra buon lavoro per i prossimi 5 anni. Grazie.